la migliore in campo di questa partita guarda là, quella è la camera ok, perfetto e il nome, scusami Valentina Montenegro Valentina Montenegro tanto che il premio Limone Gioielli per la migliore in campo partita lottata quasi diciamo nei primi due set nel terzo set non c'è stata storia perché le ragazze di Santa Teresa hanno mollato anche a livello proprio mentale però voi siete l'uno dei qui sicuri dei vostri mezzi, avete fatto la vostra partita forse il Santa Teresa ha sbagliato qualcosa in più l'abbiamo visto in ricezione oppure quando voi giocavate la palla al centro noi siamo arrivate qui molto cariche anche perché non c'è un atleta Valentina Martilotti e quindi eravamo ancora più motivate perché questa vittoria era per noi e dedicata anche a lei e quindi abbiamo dato il 100% quindi una vittoria che vi proietta verso la parte alta della classifica e forse spegne le belle età delle ragazze di Santa Teresa per quanto riguarda la corsa e i playoff noi lo speriamo giochiamo partita dopo partita adesso domenica ci aspetta Aprilia una partita abbastanza difficile anche perché loro sono prima in classifica però noi daremo il massimo perché il nostro obiettivo è quello e quindi niente Valentina complimenti complimenti a tutte le ragazze grazie e buon rientro a casa grazie mille grazie mille